Il primo giorno di Andrea Sottilda, allenatore del Catania, è iniziato ufficialmente oggi con la sua presentazione avvenuta in mattinata a Torre del Grifo. Con lui l'amministratore delegato Pietro Lomonaco, che ha presentato anche nomi e volti dello staff tecnico. Lo stesso dirigente Etneo ha lanciato l'obiettivo per la nuova stagione, dicendo che il Catania dovrà vincere il campionato e salire in Serie B. Obiettivo pienamente sposato da Sottil, che ha il carattere giusto per fare scommesse di questo tipo. La conferenza ha poi offerto numerosi spunti legati al mercato e al ritiro che si svolgerà a Torre del Grifo. Inizialmente infatti si era pensato di andare fuori, ma i problemi logistici hanno convinto il Catania a puntare ancora sul proprio centro sportivo. Il raduno partirà il 13, mentre da lunedì 16 luglio in poi si comincerà a fare sul sede sul campo. Ci saranno certamente tanti volti nuovi e tra questi il primo dovrebbe essere quello di quel Tommaso Silvestri del Trapani accostato più volte al Catania e che finalmente è stato bloccato dai rossazzurri. In partenza Bogdan e Barisic, ma anche Marchese, che non rientra più nei piani tecnici, a Erosotto, che è l'omonococco congiudato proprio nel corso della conferenza stampa odierna. Da capire invece dove andranno Pozzebonne e Caccetta di rientro dei prestiti, mentre per l'attacco si pensa sempre di affiancare a Curiale un grande nome tra Marotta e Di Piazza.